Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Oggi, mercoledì delle ceneri, sarà il secondo da inizio pandemia. Monsignor Lorenzo Leuzzi lancia un messaggio per vivere al meglio questa giornata e il periodo di quaresima, con la fiducia di poter ripartire trovando le motivazioni nel ruolo che ognuno di noi ha nella società. Si credo che l'esperienza che iniziamo oggi in preparazione alla Pasqua, che è il tempo quaresimale, è una grande opportunità per tutti noi perché il cammino che la Chiesa ci propone, e anche il Papa ce lo ha ricordato nel suo messaggio per la Quaresima, è una grande occasione non soltanto per vivere un momento di conversione, di rinnovamento, ma soprattutto di scoperta del progetto di Dio su ciascuno di noi. Perché il cammino quaresimale di questo anno, di questo anno B, è una grande occasione per capire come davvero ciascuno di noi può scoprire, nel cammino verso la Pasqua, che il Signore evolge il suo sguardo su ciascuno di noi, ci accompagna con il suo sguardo, ci ama, e soprattutto ci fa comprendere che ciascuno di noi non solo può ripartire, ma ha un ruolo da vivere nella società e nella Chiesa. E questa fiducia, questa certezza che il Signore non abbandona mai la vita di ciascuno di noi, credo che possa essere una grande occasione per riscoprire il grande dono del Battesimo che in questo tempo costituisce la forza per ritrovare le motivazioni più profonde per impegnarsi a servire i fratelli e soprattutto a ridare prospettive nuove per poter vivere questa esperienza che stiamo vivendo, non come un evento da subire, ma come un evento da vivere pienamente per poter trovare nuove motivazioni per ripartire e io sono certo che l'evento pasquale che vivremo nella notte di Pasqua sarà davvero la scoperta di un dono perché nel vento del Battesimo il Signore ci comunica e vuole comunicarci nel nostro cammino il suo progetto che certamente è molto più grande di ciò che noi possiamo pensare per noi stessi.